La regione più sportiva d'Italia assieme al Trentino Alto Adige con Trieste capitale degli sport d'acqua individuali e il resto della regione che traina in quelli individuali. Atleti tesserati di ogni età ma non solo, anche un sottobosco di attività ludiche più o meno ufficialmente riconosciute che portano il Friuli Venezia Giulia al top nonostante impianti e aree sportive mediamente piuttosto datate. E dove non sempre c'è spazio per tutti facendo riscoprire soprattutto con l'arrivo della bella stagione l'attività spontanea all'aperto in spazi pubblici. Buongiorno regione, buongiorno Friuli Venezia Giulia, oggi è giovedì 6 aprile e ricorre la giornata mondiale dello sport e questo è il tema della nostra giornata. Ci sono anche tante associazioni e tanti enti di promozione sportiva, tra questi c'è la WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, abbiamo con noi la Presidente Sara Vito. Buongiorno, 75esimo anniversario dalla fondazione della WISP. Cosa fa e com'è organizzato questo ente? Allora, intanto WISP è un ente di promozione sportiva nazionale che è articolato su tutto il territorio appunto del nostro paese, anche in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo il comitato regionale, di cui appunto l'onore e l'onore di essere Presidente, e i comitati territoriali. Cioè, diciamo, in ciascuna provincia c'è un comitato che ha, insieme al regionale, il compito di proprio promuovere l'attività sportiva. Quindi, diciamo, se il comitato regionale ha un'attività più di governance e di coordinamento, i territoriali sono poi proprio il braccio operativo. Il primo, diciamo, front office con le associazioni sportive, con i tesserati. Quali sono le vostre principali attività e quanti tesserati avete? Perché funziona esattamente come un CONI con numeri un po' diversi, però la struttura è abbastanza simile. Ci sono ogni sport, ogni area al suo, diciamo, modo. Settore di attività, sì, esatto. Diciamo che siamo quindi anche noi all'interno del grande movimento sportivo italiano, quindi la grande famiglia del CONI. Siamo però un ente, appunto, autonomo che ha al proprio interno tutti questi settori di attività, cioè promuove le tante discipline sportive. Diciamo che la forza di WISP è quella di avere una forte base identitaria, una forte, diciamo, volontà di promuovere proprio lo sport popolare. Quindi siamo molto, diciamo, propensi non tanto all'etica della competizione, quanto proprio alla promozione dell'attività fisica in quanto ottimo fattore per stili di vita sani. Quindi cerchiamo veramente di arrivare un po' a tutti, non soltanto ai più toalentuosi, ma a chiunque abbia piacere e voglia di mettersi un po' a fare movimento. Abbiamo visto prima nel servizio sono stati anni difficili, immagino che sono stati anni difficili anche per voi, dove, diciamo, i finanziamenti arrivano in maniera diversa rispetto al CONI o a sport e salute che arrivano direttamente dal governo. Sì, noi abbiamo comunque, beneficiamo anche di alcuni bandi regionali, abbiamo, insomma, un'attività di dialogo con la pubblica amministrazione, in particolare con i comuni, però diciamo che ci fondiamo soprattutto sul tesseramento. Abbiamo più di 13 mila iscritti e tesserati in regione e l'ente ha più di un milione di iscritti a livello nazionale. Quindi siamo, diciamo, sicuramente una realtà molto attiva, molto presente. Si può essere tesserati per più enti di promozione sportiva? Mi faccio un esempio, ci sono tanti altri enti di promozione sportiva, anche abbastanza forti, in regione, vengono in mente per esempio il CSI, vengono in mente le ACLI. C'è un po' di competizione come c'era negli anni 60? Ma diciamo che, allora, c'è un po' di legittima competizione. Quello che penso che sia importante è che tutti però lavoriamo nella stessa direzione per cercare di dare un servizio a un po' tutte le sensibilità che ci sono. Quindi noi pensiamo sicuramente che tutte le fasce di età, dalle persone meno giovani a tutte le abilità, siano meritevoli di essere appunto protagonisti dello sport. Oggi è una giornata importante, una giornata appunto internazionale dello sport ed è bello ricordare questo, che insomma lo sport può essere veramente un fattore fondamentale nella crescita, nel percorso di crescita di ciascuna persona. Abbiamo visto nelle immagini che voi fate tantissime attività all'aria aperta, voi nello statuto avete la difesa dell'ambiente, cosa fate attivamente in regione? Sì, io penso che WIS sia stata la prima tra tutti. Voglio dire, lei è anche stata assessora all'ambiente, quindi c'è una certa esperienza. Diciamo che è un tema che mi è molto caro, quindi cerco di portare anche un po' il mio così bagaglio di esperienza nell'impegno che adesso appunto sto facendo in WISP. Diciamo che la più grande palestra all'aperto che abbiamo è l'ambiente, quindi la fruizione del territorio e il fatto anche di essere consapevoli che va preservato, è una questione che anche si riesce a trasmettere attraverso lo sport. Ad esempio ho visto alcune immagini che scorrevano, ma ricordo che non più tardi di domenica scorsa c'è stata una bellissima manifestazione tra Gorizia e Nova Gorizia che è Vivicità, dove appunto si è camminato all'aperto, eravamo più di 500, dove abbiamo appunto fatto attività fisica ma allo stesso tempo fruito del territorio. Quindi anche siamo portatori di questo tipo di valori ai WISP da anni, che anche già negli anni 90 aveva addirittura siglato una convenzione con il Ministero dell'Ambiente. Quindi c'è stata una sensibilità molto, diciamo, un po' che ha precorso i tempi da parte dei WISP sul fronte green. Sport e disabilità, avete anche una sensibilità su questo argomento? Sì, assolutamente. WISP è dal 2014 stato riconosciuto come ente di promozione sportiva paralimpica, quindi insieme al CIP, e che il Comitato Italiano Paralimpico promuove appunto anche questo tipo, diciamo, di attività, perché lo sport è anche un grande aiuto per, diciamo, contrastare le disuguaglianze, quindi una grande occasione di inclusione e di pari opportunità. Tra l'altro ricordo che WISP è ente dal 2019, anche ente di promozione sociale, è rete associativa nazionale, quindi siamo proprio attivi nel terzo settore come una realtà che attraverso lo sport vuole appunto promuovere questi valori della socialità. Certo, ne faccio un'ultima domanda a cui le chiedo di essere breve prima di rispondere. Se noi andiamo in Slovenia e vediamo delle strutture, degli spazi per lo sport sicuramente molto, diciamo, più curati, dovrebbe investire di più il pubblico o dovrebbero fare qualcosina in più i privati per poter avere impianti all'altezza anche da noi? Allora, diciamo che noi abbiamo in regione soprattutto prevalentemente un'impiantistica pubblica, quindi è benvenga chiaramente all'aiuto di tutti, ho sentito le parole del Presidente Brandolin, a cui mi associo, chiaramente il forte appello che facciamo è sempre alla pubblica amministrazione, perché anche è giusto che gli impianti che siano pubblici, siano il più possibile fruibili da tutti e siano anche all'attezza di affrontare anche le sfide della transizione ecologica, perché anche il tema dell'efficientamento energetico è un tema assolutamente prioritario e attualissimo. Grazie a Saravito, Presidente del WISP regionale. Grazie a Saravito.